ciao a tutti oggi vi volevo far vedere le mie tinte labbra preferite allora queste tinte labbra sono tra le preferite perché anche avendo tanti tanti colori tanti tanti tipi di tinte labbra io preferisco sempre queste allora partiamo allora premesso che ho le salviettine sul canti perché vi farò vedere gli swatch qui allora partiamo dalla Dior guardate Dior allora il colore è questo aspettate ecco così si vede meglio allora così allora togliamo questo braccialetto allora così ecco questo e non so come guardiamo madame france rouge rouge questa è la rouge poi abbiamo quest'altra della Dior colore questo e questa è la 625 Mr. It Matte poi 3 della Wicon questa vedete se la possiamo fare ecco qui la Wicon questa è la 130 ed è la guardiamo qui non c'è scritto c'è solo scritto che c'è la 130 comunque adesso vi faccio vedere lo swatch comunque è così si presenta così ed è così è un po' simile a quella della Dior guardiamo qui si presenta così allora questa 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 è questa questa qui si presenta così poi sempre della Wicon abbiamo questa che è Cervi me lo ricordo ed è la numero 16 ed è questa aspettate che ve la faccio vedere meglio che la facciamo qui così poi un altro della Wicon ed è la numero 161 ed è questa allora vi faccio vedere ragazzi io vi dico che prediligo comunque come se potete vedere da queste 5 tinte labbra che prediligo i colori scuri tra il rosso e il marrone non mi piacciono tipo non lo so i colori si ok i trasparenti anche perché comunque metto molto spesso i gloss su trasparenti e rosa però comunque se devo andare da una parte una cerimonia una cosa preferisco questi tinte qua comunque poi abbiamo tre tinte Chanel allora allora vi dico già che la mia pronuncia dei colori come si chiamano i colori sarà pessima quindi scusatemi in anticipo allora questa se ce la faccio se ce la faccio e tirarla fuori eccola qui questa qui questa qui scogliamo allora si chiama dai che lo so però non mi vivant vivant ed è il 144 comunque adesso vi faccio vedere lo swatch lo swatch è questo ed è stupenda questa qui poi la seconda si chiama experiment speriment sperimento in italiano ed è la 154 ed è così così sui toni rosso aranciato così prego in così ed è wow questa mi danno un odore buonissimo questa qui poi ultima non per importanza la 148 liberé allora ed è abbiamo ed è sempre questo colore un po' più aranciato dell'altro l'altro era un po' più rosso che è aranciato questo è aranciato vediamo insieme comunque sono due colori che sono molto simili guardate beh questo è un pochino più aranciato di questo adesso sembra parasflashato perché c'è la luce allora sembrano però si riesce a capire si riesce a capire se avvicino che questo qua è un po' più aranciato e questo un po' più rosso comunque i colori sono questi e comunque questo come vi ho detto prima è liberi questo ok allora io saggettino alla mano adesso tolgo tutto e niente ecco qui il video è finito ragazze iscrivetevi al canale se non siete iscritte lasciate un like per supportare il canale e attivate la campanella così vi dirà sempre i miei video cioè vi terrà aggiornato se vi farà piacere li potrete guardare niente grazie per avermi guardato alla prossima al prossimo video ragazzi ciao